Raffinatezza, comfort e tecnologia ad altissimo livello, la nuova Volvo V90 non delude le attese e lancia la sfida alle Wagon Premium tedesche. Dalle dimensioni importanti, è lunga quasi 5 metri, l'inedita familiare svedese propone un design possente ma allo stesso tempo dinamico e moderno, che riprende quello della berlina S90 nella parte anteriore. La differenza è nella coda, con la V90 che si caratterizza per la presenza di un terzo finestrino che slancia maggiormente la silhouette della vettura, di un montante molto inclinato in avanti e di gruppi ottici ridisegnati a forma di L. Raffinatezza. All'interno lo spazio non manca, con quasi due metri tra lo schienale dei sedili posteriori e la fine del vano bagagli, ed una capacità di carico che può arrivare fino a 1.526 litri. Come tradizione Volvo, non delude nemmeno dal punto di vista tecnologico e della sicurezza. Troviamo il sistema di guida semi-autonoma Pilot Assist, in grado di correggere da solo lo sterzo per rimanere entro le linee della corsia di marcia e di rilevare la presenza di animali di grandi dimensioni in traiettoria. Per quanto riguarda la gamma motori, invece, sotto al cofano della nuova V90 troveremo sia unità 2 litri benzina e diesel che la variante ibrida plug-in, con propulsore T8 Twin Engine da 410 CV complessivi ed un'autonomia in modalità a zero emissioni pari a 50 km. Insomma, la sfida ad Audi, BMW e Mercedes è già iniziata.